Ciao a tutti se siete benvenuti in questo nuovo video, io sono Manky Oggi siamo sulla stagione 3 di Rocket League è uscita da circa 2 giorni quindi oggi ci faremo qualche partita però prima apriamo scusiamo i boss misteriosi, non so come chiamarli vediamo il gestione inventario ecco il cuo, ritrovamento zero ovviamente puntino al massimo ok vai ok vediamo cos'è eh adesso si è un po' strano, non è che mi piacciono molto però ma vabbè vabbè io direi di fare subito una partita fare in modalità extra vediamo cioè questo cosiddetto ok guarda stiamo iniziando per la modalità quella con i poteri allora io gli dico non scherzissima Rocket non scherzissima Rocket ne volevo dire allora torniamo quel turbo ma noi siamo giuti ok no 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 vabbè dai dai giuro bene dai allora dobbiamo puntare a far gol no la parata no è andatoci niente spiderman elf 13 che non è ehm firmati un nudo eh vabbè questo è bello da parlare che scrivono no no andiamo qua andiamo qua dobbiamo dobbiamo recuperare vai posso ma qui ho dato l'handicap del potere non lo so non l'ho capito ma è facile è facile è facile ah è andato fino a che è quello per giù che è che è caldo no 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 andiamo vai che si può ancora risperare buono tanto c'è un trucco per sistemare ecco c'è poi posso fare le capriole che si inizia a fermare allora andiamo in line vai 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 no ma perché premola ma lo gioco senza volare no no perfetto perfetto volevo provarci a andare guarda lì ha dato il calcio ha spiegato la palla quello ha dato là è l'entrata perfetto volevo provare a vedere il calcio ma a posto di spalla e niente saltate perché fa mettere ora vogliono dar scusa presto ma va no 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 ok ora c'è che non sto più parlando ma ero concentrato vai 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 veloce prendi qua ciurbo no ho fatto mia cavolata vabbè faccio il tanto questo è lo sprecato no no non facciami più far gol Perfetto, l'ha levata da lei, mi voglio, no, ma perchè stimola di qua, che cavolo è Perfetto, 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 ora o la teniamo per 50 secondi e finiamo di supplementare i programmi a pincele o l'onora, io sono in porta, non sei sicuro, non sei in porta, volevo dire tutto, vai, vai, c'è uno loro in porta però, come? Perfetto, 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 ora voglio intervenire per 30 secondi e facciamo gol, vai, io ci ritrovo, ho sparato via il nemico, no, perfetto, ma levavi la palla, Questo potere è comodissimo Dai Il difesa Tranquillo Perfetto, perfetto, queste gol, queste gol, no, l'ha levata all'ultimo No, sì, però il suo secondo Perfetto Sì, che fortuna, guardate, io faccio così E quest'altro, non mi ne ho basta bisogno di verità perché non mi preoccupavo a più persone No Siamo in una casuale con noi, è fra gol, guardate, 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 guardate Ho fatto una fidata perchè stavo a vestire la pilota nel suo campo, quindi avrei vinto una buona mira forse, mi sono imbalzate bene Nooo, no No, vai vai Perfetto, perfetto Io l'ho sempre perfetto, ogni video ci sarà almeno un perfetto Vai, così Gol, gol, non ho capito come ma c'è gol L'urre play è nudo Allora qua, ho detto botto qui Lui è alto, sono mi grande Dai Dobbiamo vincere anche questa Vai, no Nooo Vai, per favore, vai così Vai così Nooo Ora fa gol, è il suo vostro gol Beh, io la mando fuori Forse mi sa che è proprio scalso Vai così Vai così Vai così Volevo provare a fare un supernagatrice, ma vabbè. Per favore, per favore, per favore! Si vince, si vince! Forza! Vabbè, in realtà se tutto mancherò, attenzione. Poi non la vinciamo, ma... 1-0, non è che è tipo questa gran vincita. Poi c'è un pochino meglio. Ma non è che è sempre più triste, grazie. Per favore, per favore! Vai, vai, vai! No, no, no! Vai, un fire, un fire! Niente fire qua! Per favore, per favore! Manda via la palla, manda via la palla! Manda via la palla! Manda via la palla! Più o meno... Queste gol, queste gol! 3-0! 3-0! Tu, non sento a queste gol, a parte che uno scazzame viene con il nello di vantaggio! Però... Scherzina lo è! Prendi il tappo, izzo! Ah, dove lo sta giocando! oppure la taschiera, o... per saltare in una palla! Ecco No No Paratepica Scusa Che è successo Io vado la prova a parare Da paratepica Però per il gioco è gol E per sé tutta la palla No vabbè Adesso non è studiato No 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 Vabbè 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 Questo è il karma Ora Ora la faccio Contro uno Cioè no Devo entrare sotto l'altro E Non c'è oltre cavolato Perchè sto munito? Devo pulire Vai 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 Gol Vai Tiro la palla Li dà una spinta A me Sure Deve entrare tutta la palla Ah certo Vai 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 vai易 perchè sono i valli sono da perfetta a valli sto trovando sempre coltello guarda no e passa a spingere perfetto con me si diverte a spingere però che senso altro quello qui questo non è il mio disegno c'è il mio disegno di cavo con il turbo si si il turbo guarda che ti potrei anche lasciare assare ti pari anche tu la tua palla ma vai in porta prendi turbo e vai in porta che non è il turbo fai così adesso faccio un'altra cosa 961 punti 6 gol, una parata, 6 tiri dai puoi premere lì ho il tasto destro del mouse il tasto destro vai qua veloce 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 fa un altro gol dai io stavo dicendo vabbè non per mai mi hanno vinto no con l'aria fa cosa vabbè dai ho sto secondo vabbè non ci provo neanche ormai vabbè raga per questo video tutto se vi è piaciuto se vi è piaciuto se vi è piaciuto vi è piaciuto Grazie a tutti.